Per giovani, inoccupati e disoccupati, l'argomento particolare è quello della promozione del turismo e del patrimonio ambientale, quindi Vieti scommette su questo settore importante. È da tempo che scommettiamo su questo argomento, al di là dell'importanza del progetto in sé per sé, il fatto che questa volta siamo al di fuori dei limiti comprensoriali territoriali di Vieti sul mare, in quanto in caso di un surplus di domande ci sarà la prelazione per coloro che sono residenti nel comune di Vieti e nella costiera amalfitana. Si tratta di un progetto che dà la possibilità a 50 diplomandi o diplomati da non più di un anno di poter andare all'estero per incrementare il proprio bagaglio di esperienze. Bagaglio di esperienze sia sotto l'aspetto artistico sia sotto l'aspetto turistico, perché non è una scommessa quella di investire nel turismo, diventa addirittura una necessità. Ma poi non dimentichiamo che sono i due settori trainanti dell'economia di Vieti in quanto l'arte ceramica, turismo, la ricettività di cui già abbiamo una certa esperienza. Voglio dire che diventa una necessità, perché qui da noi l'occupazione è molto difficile, ormai un luogo comune lo sanno tutti, anche perché non abbiamo possibilità sia per carenze di infrastrutture, sia per i vincoli ambientali e paesaggisti che ben vengano e che ben vengano mantenuti, non abbiamo possibilità di realizzare dei grandi stabilimenti industriali o delle grosse fabbriche. Dobbiamo utilizzare quello che ci ha dato il patrimonio, quello che ci ha dato madre natura, quello che è il paesaggio che abbiamo da vendere. Quindi una professionalità sotto l'aspetto dell'accoglienza turistica, una professionalità manageriale sotto l'aspetto di quello che è la gestione di strutture ricettive, una capacità di creare una rete di accoglienza, perché noi notiamo che alla fine dalle nostre parti c'è grande possibilità di sviluppo e però purtroppo molto spesso le ali sono tarpate per questi piccoli inconvenienti. I paesi che dovrebbero ospitare questi 50 diplomanti sono l'Inghilterra, Malta, la Spagna e l'Irlanda, ma questo anche per un perfezionamento della lingua, perché uno dei gap che abbiamo principalmente qui a Vietri e forse nel comprensorio è quello di non interloquire in maniera corretta sotto l'aspetto linguistico con i turisti. Ecco, un'elevazione del livello di rapportarsi con coloro i quali hanno la possibilità di spendere e che vogliono venire in costiera amalfitana. Mi corre l'obbligo di ringraziare l'assessore alla politica giovanile Mario Pagano, il quale ha seguito da solo questo progetto e che ha portato a Vietri la possibilità di investire come comune capofile ben 239 mila euro a vantaggio dei giovani. Quando si dice che i giovani non vengono curati, diciamo, nella maniera giusta, credo che sia un errore, perché questo è un progetto estremamente complicato, estremamente delicato, estremamente lavorato. Lei puntava l'attenzione sulla lingua. Spesso fa le critiche che vengono fatte appunto alle amministrazioni italiane, spesso anche del sud, è quello di non avere, ad esempio, delle iscrizioni bilingue nelle nostre località turistiche. Accade purtroppo anche in costiera amalfitana. Attenzione sulla questione dell'inglese, insomma, della lingua. Spesso però non ci sono iscrizioni bilingue, anche in costiera amalfitana. Semmai la Polizia Municipale non conosce l'inglese o non conosce il francese, il tedesco. Insomma, forse continuiamo a scontare, per quanto riguarda i territori della Campania o del sud, un ritardo per quanto riguarda l'approccio al turismo, che invece non troviamo, ad esempio, in altre zone d'Italia, Rimini o anche in altre località. Questo credo che sia una verità, però dipende anche dalla modalità di intervenire sul territorio. Io posso dire solamente che, al di là di quello che sono le indicazioni di carattere nazionale del Ministero della Pubblica Istruzione, che ha previsto attualmente nelle scuole medie i corsi sia di francese che di inglese, e al di là di quello che è la preparazione scolastica che ognuno di noi ha potuto avere, noi ormai in cinque anni di attività amministrativa abbiamo organizzato già ben tre corsi di lingua inglese. I primi due gratuiti, il terzo a pagamento a 170 euro tutto il corso. Devo dire la verità. Il primo fu rivolto ai commercianti proprio per cercare di migliorare questa possibilità e partirono in 30 gli iscritti e arrivarono solamente con tre, perché ovviamente arrivare ad una certa età diventa difficile, ostico se non addirittura impossibile, come per qualcuno è difficile operare via internet con i computer. Alla stessa maniera, ad una persona di 55-60 anni è difficile far insegnare o far imparare la lingua. Tranne quello Maccheroni che ormai è un inglese che conosciamo tutti. Quello invece da pagamento ha avuto un discreto successo e a questo parteciparono tutti i titolari e i gestori di B&B. È chiaro, un passo alla volta, perché poi con una vita frenestica, con uno stress quotidiano, con tante cose da fare diventa quasi un modo di pensare errato, secondo me di impiegare male il proprio tempo nel perfezionare la lingua. Indicazioni multilingue? Indicazioni multilingue, ovviamente noi con questo corso cerchiamo di andare avanti, ma cercheremo di organizzare anche qualcosa nella casa comunale o nell'ambito di qualche struttura pubblica per cercare di creare una preparazione sotto l'aspetto linguistico. Quindi per questo bando che coinvolgerà 50 inoccupati o disoccupati, ma soprattutto si punta a migliorare la preparazione in determinati settori chiave per quanto riguarda questo territorio e quindi soprattutto si privilegierà la zona costiera, quindi la costiera Amalfità. Sì, infatti i 50 diplomati o neodiplomati che saranno coinvolti nel progetto appartengono alla regione Campania. Si darà preminenza, come si diceva, ai comuni costieri che sono partner del progetto, perché la cosa che più mi preme sottolineare è il carattere internazionale di questo progetto, che vede il comune di Vietri in qualità di ente capofila, ma vede coinvolti sei comuni della costiera amalfitana, due scuole del nostro territorio, il della Corte Van Vitelli di Cava dei Tirreni e l'Istituto Marini Gioia di Amalfi, oltre a due agenzie spagnole, due agenzie del Regno Unito di Malta, agenzie che si occupano appunto di progetti per le politiche giovanili. Con questo si vuole favorire la crescita professionale dei ragazzi che saranno coinvolti nel progetto e che andranno all'estero per quattro mesi. Si vuole favorire lo scambio transnazionale e internazionale tra i nostri giovani e i giovani degli altri paesi europei. Si vuole incentivare naturalmente questi ragazzi a sviluppare competenze nel settore del marketing turistico e della promozione ambientale. Competenze che poi dovranno essere riportate qui sul territorio ed utilizzate proprio per lo sviluppo dei nostri contesti socio-economici.